Nell'anno da capitale della cultura, i mosaici del Duomo sono stati forse il sito culturale più attenzionato per un salto in avanti di valorizzazione, come ribadito più volte anche nella stessa campagna elettorale di Andrea Biancani. Così, dopo l'allargamento delle finestrature che grazie a Fondazione Scavolini ne consentono ora una visuale più ampia, il Comune interviene sui mosaici con un nuovo progetto che ne allarchi ulteriormente la fruizione. In questi giorni mi sono incontrato con l'arcivesco, con la sovrintendenza e con le varie università che stanno operando gli studi e in qualche modo gli scavi per capire se era possibile o meno portare avanti il progetto per spostare il mosaico superiore in un altro sito. Devo dire che ci sono state diverse perplessità, innanzitutto perché la sovrintendenza ha dichiarato che con le tecnologie attualmente esistenti difficilmente si riesce a spostare il mosaico senza rischiare di poterlo rovinare. A questo punto, insieme al vescovo e alla sovrintendenza, abbiamo deciso di proseguire, almeno per i prossimi anni, un progetto che deve portare sia ad aumentare i spazi visivi, cioè i vetri, che sono calpestabili e che possono aumentare la visibilità del mosaico, ma dall'altra parte, come amministrazione comunale, ci siamo presi l'impegno di fare un progetto multimediale, realizzando una vera e propria stanza al di fuori rispetto al Duomo, stanza dove i turisti potranno andare, potranno godere, verificare tramite un progetto multimediale quello che sia la storia del Duomo, sia la storia di tutti i mosaici, ma soprattutto riusciranno a vedere quella che potrebbe essere una vera e propria ricostruzione del mosaico, almeno quello superiore, con alcuni pezzi di quello inferiore. Quindi, ritengo, continuerò a lavorare in questa direzione, ovviamente in collaborazione con la diogesi e la sovrintendenza, perché riuscire a rendere più visibile il mosaico è veramente una grandissima opportunità di promozione culturale e turistica per tutto il nostro territorio.